Il primo verdetto elettorale nel Piceno è arrivato già ieri sera. Amedeo Lupi è il nuovo sindaco di Force. Nel piccolo borgo a Scolano, infatti, era stata presentata soltanto una lista e ieri sera, alle 23, era stato già raggiunto il quorum, visto che si era recato alle urne il 52,33% della popolazione. Ora, per l'elezione di Lupi, mancano i crismi dell'ufficialità, ma si tratta di una formalità in quanto è sufficiente che siano valide almeno la metà delle schede. Grande soddisfazione, dunque, per il nuovo primo cittadino forcese. Sì, beh, naturalmente sono molto, molto contento per la risposta che c'è stata da parte dei forcesi, che sono andati già da ieri a votare. Tanti gli impegni da portare avanti sul territorio nel segno della continuità con la precedente amministrazione. Ovviamente Augusto è uno dei candidati insieme a me, insieme alla nostra lista insieme per Force, sarà determinante il suo apporto, sicuramente come consigliere, poi vedremo anche per la giunta. Chissà, infine, che nella nuova giunta non possa esserci un ruolo di primo piano per il sindaco uscente Augusto Curti, anche egli candidato nella lista di Lupi. Ovviamente Augusto è uno dei candidati insieme a me, insieme alla nostra lista insieme per Force, sarà determinante il suo apporto, sicuramente come consigliere, poi vedremo anche per la giunta.